Salve a tutti cari amici di EvoSmart.it, bentornati in nostra compagnia, quest'oggi vogliamo proporre un video diverso. Perché un video diverso? Perché il nostro Nikolas ha voluto creare un compset di quello che secondo lui potrebbe essere il nuovo iOS 13. Di recente Nikolas è passato totalmente al mondo Apple, già editava i video con il suo MacBook ed ha abbandonato Android, quindi il suo S8 Plus, per passare totalmente ad iPhone XS Max ed Apple Watch. Si è ovviamente appassionato al mondo Apple, di conseguenza ha voluto, come vi dicevo, creare secondo lui quello che sarà iOS 13. Molti blog, sia italiani, famosi, sia anche internazionali, hanno proposto l'articolo con il suo video all'interno. Quindi io voglio in primis ringraziare Nikolas per averci concesso la possibilità di uploadare il video su questo canale YouTube e soprattutto fateci sapere all'interno del box dei commenti quelle che sono le vostre impressioni sul video, le vostre opinioni su quello che sarà o quello che potrebbe essere iOS 13. E se il video vi è piaciuto, ragazzi, come sempre sostenete il canale con il tasto like, condividetelo all'interno dei vostri social e se non siete ancora iscritti al canale YouTube, fatelo perché è totalmente gratuito. Detto questo, ragazzi, vi lascio subito al video di Nikolas, quindi niente sigla, ma andiamo con il video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!